La storia di Riesco al Saluto. Loro dicono che era un bandito, invece era un rivoluzionario ed è morto in una battaglia. L'ultima cosa che c'è stata... Di buono cechevare! Io sono la luce ascendente acquario a cuspire con bilancia. Mi sapeva l'acquario. Dal segno cinese che segno segno. Io pure calda sapevo, che più in alto vai, più erba fresca trovi. E' gentissima la trama. Un amico mi ha detto che c'era una pitta, sì, di un monolocale, piano terra. Te ne è piaciuta la zona perché è proprio il cuore di Palermo, centro storico. Questi vissuti, la storia, dove ti giri, ti giri, qualsiasi mattonella, se potrebbero comprare, insomma, ne avrebbero da dire assai. E sembra che tu fai questo lavoro e sei una persona, come si sa dire, facile. Ma non è così, tu stai lavorando, tu stai facendo un altro passiere. Che è molto lontano da questo lavoro. Quindi trovavo gente che li provocavano, ci provavano. Poi, insomma, le stesse persone hanno iniziato ad apprezionarsi. E la maggior parte sono diventati miei clienti. E' stata dura, è stata dura, ma tutt'assieme, non so, spuntato il sole. E' arrivata un sacco di gente. E ora già, devo fare quasi 12 anni a ottobre che sono aperta. C'è gente che tutti li ha frequentato da tante persone. Quindi ci puoi trovare di tutto. Ci puoi trovare, che ne so, il resto di colore, la ragazza siciliana, proprio verace, paralitana verace. La gente è cambiata se, diciamo, è voluta, diciamo. E prima in Sicilia ci si sposava, si stava a casa a fare figli. Ora invece è proprio, c'è il gusto di uscire insieme, da propria moglie, il proprio compagno. O per se a passi un aperitivo in qualsiasi locale, frequentato da gente comunque eterogenea. Stai già registrando? Ah, ma no, ma... Io sempre proprio. Ma dire così! Gente che non è... che non hanno capito mentale. La potosi del mondo gay noi siamo. Noi siamo le due entità sicuramente positive. Sì, positive del mondo gay. Ci trovi un po' tutti, non ci trovi solo gay o solo etero. E così ci permette anche di socializzare e far conoscere il mondo gay al mondo etero, il mondo etero al mondo gay. Sì, la gente è cambiata. È cambiata perché prima era molto lessia, molto incassata. Magari uscivano per spogliare i loro spoghi. Invece adesso è un piacevole incontro. Di tutte le fasce, di età, sociale e genere. No, raga, ve ne dovete aiutare. Ah, c'è Caterina, mi importa. No, non la provi. Dall'emarginato, dalla... se si può dire... costituta, all'assessore, all'avvocato. La persona più altolocata è tipo... al fango, cioè tipo io. È un lavoro molto alto sul sociale. È quasi una specie di psicologa. Noi Caterina non lo vediamo nel locale. È come andare a casa. Caterina è un'amica, ci preparava birra, ci preparava il cocktail. La Caterina ci si trova a suo agio e ci si mette un po' a casa. Infatti ci si capisce con lo sguardo. Noi andiamo senza neanche parlare. La Toshi è d'accordo, le macchine si fermano e vanno alla Caterina. Eravamo amici già da dieci anni. Ci piacevamo tutte e due, ma lui diceva che è... perché va molto. Anche poi ci sta accettando. Però nel frattempo lui aveva le sue storie, io e le mie. Lei aveva il pensato di stare con un ragazzo che si chiama Mer, che in francese vuol dire il mare, e automaticamente mi ha fatto questa sorpresa. Ma sì, diciamola così. Mi è venuto in mente appunto l'anno e l'anno. E ora, due anni e mezzo, insomma. Che stiamo insieme? Stavoliamo insieme e l'è diventato quasi più bravo di me. Questa è una signora di 70 anni che si è alzata la maglietta. Questa è una signora di più di 300 persone. Noi per essere al nostro agio dobbiamo andare in un locale gay, invece da Caterina non è un locale gay, ma ci troviamo al nostro agio. I più numerosi sono i giovani, sì. Che non deve essere solo il gestore più locale a dire basta o a dire no. Da 14 anni a 16 anni non devi bere. Devi giocare, devi fare sport, devi studiare. A bere pensaci dopo. Hai una vita. Questo lavoro l'ho scelto io da 17 anni. Fa parte della mia vita. È la mia vita. Mi piace. Non saprei fare altro. Stare con la gente. Io, tu entri e mi dici voglio una cosa secca, voglio una cosa dolce, voglio una cosa leggera. E già so cosa vuoi. Fa parte di me. Ciao. Sì. Questa è un locale così perché accetta per quello che siamo. Questa è uno dei principali bar di Palermo dove puoi venire a bere in fronteira. Che state bevendo? Acqua. Miai! 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 Miai!